Grazie Presidente. Diciamolo che il vero motivo per cui la maggioranza vota contro a questi emendamenti è che questo provvedimento, come ricordava anche ieri il Ministro, non può essere rimandato al Senato perché lì c'è un equilibrio precario. Benissimo. E perché c'è un equilibrio precario al Senato? Perché il paradosso di fondo di questo Governo è che Matteo Renzi governa con il partito di Angelino Alfano. Questo è il motivo per cui sulla legge anticorruzione non si può fare semmai un accordo con il Movimento 5 Stelle perché si preferisce fare un accordo a ribasso con NCD, con area popolare, piuttosto che leggi giuste, oneste e magari tendere a migliorare un testo come questo, tendere a migliorare il falso in bilancio come lo volevamo noi. Quindi è questo il motivo per cui si vota anche contro il DASPO ai corrotti. Noi ci stiamo opponendo all'accordo tra PD e Nuova Centrodestra. Grazie. Metto in votazione l'emendamento. Onorevole Santelli, prego. Sì, signor Presidente, noi votiamo contro questo emendamento non perché siamo contrari al fatto che i corrotti non tornino nella pubblica amministrazione, ma semplicemente perché la norma è già prevista per i reati più gravi. I colleghi di 5 Stelle inseriscono anche oggettivamente dei reati perché non hanno una tale gravità tale da determinare l'interdizione perpetua. Ma questa norma esiste già nel nostro ordinamento. Presidente, grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.011, colletti. Parere contrario, Commissione, Governo. Onorevole Molteni, però è la terza volta che metto in votazione. No, 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 guardi. Va bene. Prego. Presidente, semplicemente per annunciare il voto favorevole all'emendamento colletti da parte del gruppo della Lega. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.011, colletti. Parere contrario, Commissione, Governo, Relatrice, Forza Italia, favorevole, Relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Mazziotti.